Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale di Speznaz. Oggi siamo tornati qua con un altro episodio della storia dei mezzi militari. In particolare oggi andiamo a vedere il carri armato francese Somua S35. Prima di iniziare come sempre lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e detto ciò iniziamo. Innanzitutto come tipologia di carri armato si parla di un carri armato medio da combattimento e questo fu il risultato di un cambiamento di programma nella costruzione di un carri armato in particolare che prevedeva la realizzazione nel 1934, la data imposta del progetto, di un veicolo pesante 13 tonnellate che aveva come arma principale o un cannone da 4,7 cm o uno da 2,5 cm. Il carri armato poi doveva ospitare ben tre uomini di equipaggio, avere una corazza pari a 4 cm e un'autonomia di 200 km con una velocità massima di ben 30 km orari. E qui entro in gioco la ditta Somua, nata nel 1914, quindi proprio allo scopo della prima guerra mondiale, dalla fusione di più sedi e aziende di armamenti. Somua vuol dire Société d'utilisation mécanique et usinage d'artillerie e presentò a Parigi il progetto nel 1935. Dopo diversi collaudi e severi test, alla fine la produzione si avviò nel 1936 e vennero già richiesti ben 50 carri armati e questi carri armati Somua vennero alla fine denominati come S35. Durante la fase di progettazione però ci furono dei problemi, soprattutto legato al motore, ma vennero risolti con un motore a benzina raffreddato liquido e dotato di carburatore Solex che poteva garantire una potenza massima del motore pari a 190 cavalli. Questo veicolo poi arrivò a pesare infine 19 tonnellate e mezzo rispetto alle 13 tonnellate previste e consentiva questo motore una velocità su strada di 45 km orari e fuori strada di 37 km orari, che lo so che per noi oggi farà ridere, però per l'epoca era veramente tanto e questo infatti fu un mezzo alla vanguardia per quanto riguarda l'esercito francese e fu anche nettamente superiore alle controparti tedesche più avanzate dell'epoca ossia il Panzer III E e il Panzer III F. Per farvi capire quanto fosse nettamente avanzato e superiore rispetto alle controparti più avanzate tedesche vi voglio fare proprio un confronto in termini di autonomia e di potenza motore poi corazzatura, armamento e stiva delle munizioni. Partiamo subito dal motore. Allora, le versioni del Panzer III E e F pesavano uguali all'S35, quindi 19 tonnellate e mezzo avevano però un motore molto ma molto più potente, ossia un motore da 300 CV però potevano raggiungere la velocità massima di 40 km orari su strada e di 20 km orari fuori strada poi oltre a ciò parliamo di autonomia l'S35 poteva contenere 410 litri di carburante e poteva fare 230 km su strada e 130 km fuori strada i due Panzer invece potevano contenere 300 litri di carburante però come autonomia è veramente molto bassa, ossia 175 km su strada e 100 km fuori strada passiamo poi invece alla corazzatura la corazzatura dello scafo dell'S35 aveva uno spessore di 3,5 cm mentre lo spessore massimo era nella torretta, ossia 5,5 cm mentre invece le controparti tedesche avevano uno spessore massimo di 3 cm sia su scafo che torretta parliamo poi invece dell'armamento l'armamento del cararmato francese consisteva in un cannone SA-35 e SA-32 da 4,7 cm e una mitragliatrice coassiale alla torretta Mach 31 da 7,5 mm invece i Panzer avevano un cannone da 3,7 cm e infine poi due mitragliatrici una coassiale e l'altra praticamente al posto dove sedeva il radiofonista e queste erano mitragliatrici MG34 da 7,9 mm parliamo poi come ultima cosa per quanto riguarda il numero di colpi che poteva contenere e colpi anche per la mitragliatrice cioè appunto la stiva munizioni l'S-35 poteva contenere 118 colpi per il cannone e 3.750 colpi per la mitragliatrice coassiale infine i Panzer III E e F potevano invece contenere 99 colpi per il cannone e 2.000 colpi per le mitragliatrici scusate per questa grande parentesi però mi sembrava più che doveroso e lecito farvi anche un attimo capire rispetto ai Panzer III più aggiornati e voluti che la Germania poteva offrire in quegli anni l'S-35 era nettamente superiore torniamo invece adesso a parlare solo più del Somua S-35 per quanto riguarda il treno di rotolamento adesso scusatemi fermo un attimo con l'immagine si parla di rullo posteriore cioè questo qua che vi sto indicando il rullo di rinvio anteriore e infine due rulli tendicingolo questa piastra qua laterale che è presente in entrambi i lati serviva praticamente per proteggere poi proteggere per così dire in questo caso i rulli, le sospensioni da eventuali colpi di armi nemiche quindi cannoncini o anche cannoni d'alto calibro ripeto, proteggere tra virgolette e poi anche per evitare che il fango entri e che soprattutto possa bloccare del tutto il mezzo in terreno accidentato per quanto riguarda l'equipaggio si parla di tre persone capocarro, pilota, radiofonista tutti accedevano da questo unico portello d'accesso situato nella fiancata sinistra del mezzo e il Somua S-35 aveva anche dei portelli di emergenza quelli meno noti praticamente si trovano sul fondo dello scafo mentre quello più evidente è situato nella parte posteriore di questa torretta questo qua che vi sto indicando rimanendo sempre in tema di torretta nella parte superiore non c'era un portello d'accesso ma si parla di questa cupola qua che potete vedere questa è solo esclusivamente una cupola adatta per la ricognizione e quindi per la visione esterna poi una cosa da non sottovalutare e che sembra quasi una cosa surreale però è successo che praticamente l'S-35 fu uno dei primi carri armati francesi con a bordo come membro dell'equipaggio il radiofonista perché ragazzi i corrazzati leggeri francesi non hanno mai e ripeto mai avuto all'interno una radio non sto scherzando infatti questo fu uno dei primi carri armati con all'interno un radiofonista e il radiofonista alloggiava a prua a fianco del pilota poi parliamo invece del capocarro il capocarro era l'unico che alloggiava all'interno della torretta e doveva svolgere tante cose nello stesso tempo ossia dirigere la squadra e il carri armato poi in questo caso osservare e quindi ricercare i bersagli da neutralizzare poi ruotare la torretta a seconda della posizione del bersaglio da neutralizzare ricaricare il proiettile del cannone sparare e ripetere il tutto un vero e proprio incubo ragazzi infatti il più grande problema come avevo già detto nel video del Renault R35 che consiglio tutti di andarlo a vedere o anche vedere tutta la playlist che male non fa il più grande problema di tutti i carri armati francesi dell'epoca era la torretta e soprattutto i molteplici compiti che doveva svolgere il capocarro un vero e ripeto proprio incubo ma nonostante questa cosa qui il Somua S35 fu uno dei blindati da combattimento più avanzati degli anni 30 e soprattutto alcuni esperti lo considerano addirittura uno tra i migliori carri armati la Francia mise in campo 416 Somua S35 la maggior parte dei quali però fu catturata dai tedeschi ancora funzionanti e operativi la Wehrmacht modificò ben 300 carri armati dotandoli di radio migliorata e nella maggior parte dei casi di un portello a doppia anta per il capocarro cioè rimossero la cupola d'osservazione per mettere a punto questo portello a doppia anta gli S35 furono assegnati alle neocostituite formazioni corazzate come soluzione temporanea furono impiegati dai corpi di sicurezza dalle unità delle divisioni non corazzate equipaggiate quindi con carri armati catturati durante le conquiste tedesche nell'Europa alcuni esemplari invece vennero convertiti in carri comando da destramento per il trasporto di munizioni o in mezzi da rimorchio speciale o per l'artiglieria che dire ragazzi spero che comunque vi sia piaciuto come video fatelo sapere con un bel mi piace un bel commento iscrivetevi se siete nuovi fate girare la voce del mio canale che male non fa qua da Speznaz e dal Somua S35 e tutto vi ringrazio ancora per la visione e ci si becca nel prossimo video ciao